Salve a tutti ragazzi e benvenuti nel nuovo video di The All in Red Oggi siamo ritornati dopo un po' con un altro video ma di una cosa molto importante ovvero l'uscita di Red Dead Redemption Semplicemente questo era un annuncio stasera andrò in live appena il gioco sarà ufficialmente aperto cioè a mezzanotte probabilmente partirà subito la live quindi tutte le persone che magari vedranno questo video o persone che sono iscritte al mio canale quindi a mezzanotte ci vediamo in live su Twitch ovviamente il link di Twitch sarà linkato semplicemente nella descrizione lo troverete subito in caso il nome è facilissimo da trovare anche su Twitch The All in Red a posto di scriverlo staccato The All in Red lo scrivete tutto attaccato questo è tutto quello che volevo dire ci vediamo stanotte per la live ciao a tutti ragazzi ragazzi la cosa è bella mentre io registravo stanno registrando dove abito io un film guardate stanno registrando Gomorra bello è vivere in questo posto di merda di sputtanano quando in realtà qui è la zona più pacifica del mondo quella è la vela ciao ciao a tutti